È uno stato dell'arte abbastanza tragico, ma non soltanto per i cari utenze, ma anche e soprattutto per il momento che stanno vivendo le famiglie italiane. Caro energia, prezzi alle stelle, crisi economica in generale è una situazione esplosiva che non risparmierà nemmeno le tante associazioni sportive del mondo dello sport dilettantistico. A suonare l'allarme è Lorenzo Bernardini, presidente CSI Arezzo, che avverte sui rischi di medio periodo dei rincari, che potrebbero essere dietro l'angolo e colpire direttamente le famiglie. Può risultare esplosiva se non guardiamo già da ora come potrà andare il futuro. Quello che noi indichiamo alle nostre società sportive è quella di non guardare il tempo come qualcosa che scorre e che dobbiamo per forza chiudere le nostre attività. Dobbiamo cercare di trovare le opportunità. Intanto la piscina comunale di Arezzo ha già alzato le tariffe per gli abbonamenti dei bambini. Una scelta forzata visto l'aumento esponenziale delle bollette, ma in prospettiva il rischio è che lo sport diventi sempre più elitare e non aperto a tutti gli strati della popolazione. Può diventare un rischio. È vero che poi ognuno in casa sua fa i conti con quello che ha sotto mano di spese e le varie attrezzature che ovviamente si trova a gestire. Quello che noi indichiamo alle società sportive è di non andare a rimediare sulle famiglie quello che sono ad oggi gli importi. È vero che purtroppo le utenze arrivano, nel senso arrivano con delle somme importanti. Però bisogna cercare, come dicevo prima, di dare un supporto alle famiglie, non essere un qualcosa di deficit a livello economico. Quindi cerchiamo di formare i nostri dirigenti per far sì che veramente riescono ad accogliere i più bambini possibili. Magari cercando di ottenere, ora per esempio il comunale di Arezzo ha messo a disposizione la possibilità di voucher, ecco, cercare anche di stimolare le istituzioni. Orari diversi così da sfruttare la luce naturale, iniziare a pensare all'eco-atleta come mission e collaborazioni tra associazioni sportive, ecco la ricetta di CSI. Cambiare gli orari può essere una soluzione in alcune attività sì, in altre no. Sicuramente bisogna pensare ad uno sport vissuto in maniera diversa, uno sport H24, perché le esigenze della famiglia non sono più quelle di una volta. Quindi dobbiamo cercare di essere appetibili sempre al contesto territoriale, all'atleta e magari cercare di sviluppare una nuova mission, l'eco-atleta. Quindi cercare anche di legare tanti benefici che dà comunque l'ambiente che viviamo con uno sport rivisto, rimodellato. Dobbiamo guardarci intorno e magari, ecco, su questo e concludo, cercare di fare squadra anche fra società sportive, che può essere un modo anche per ammortizzare cose.